Lo devo dire proprio con amarezza, con dolore, Taranto è una città malata. Le ultime vicende della grossa, pesante inchiesta giudiziaria riguardante gli appalti dei servizi cimiteriali la dice lunga su quello che è il quadro di Taranto. Per carità non voglio anticipare sentenze, vale ed è bene sottolinearlo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, però lascia molto ma molto pensare. In cute dubbi molto pesanti e pressanti nei cittadini, vedere la situazione di numerosi dipendenti, di funzionari, di dirigenti che sono coinvolti in questa triste vicenda. E' una richiesta di arresto da parte del PM, arresti domiciliari, poi non accolta dal GIP, riguardante il comandante dei vigili urbani, il comandante dei vigili urbani, il dottor Michele Matichecchia, il direttore generale del comune di Taranto, il dottor Carmine Pisano. Parliamo di figure apicali, beh, voglio sperare che nei loro confronti scatti un provvedimento di sospensione, quantomeno in via cautelare. Ma non è solo questo il male, la malattia di Taranto. Abbiamo visto altre vicende giudiziarie tristi, atroci, vedi quella del concorso dell'AMIU, con un dirigente trovato con le mani nella marmellata, che sta ancora lì. Un concorso che non si tiene, cosa assurda, dopo che i partecipanti hanno pagato le varie quote, le varie tasse appunto per partecipare. Abbiamo, appartiene qualche tempo fa, una triste vicenda giudiziaria, per carità, sempre principio di non colpevolezza, fino a sentenza definitiva, la questione dei rimborsi gonfiati. Quindi, riguardante ex consiglieri comunali, consiglieri comunali, riguardante il presidente del consiglio comunale, Piero Vitetti, parliamo di un rinvio a giudizio per truffa al comune di Taranto. Presidente del consiglio comunale, sempre valido, validissimo, il principio di non colpevolezza. Ma, oltre questi aspetti giudiziari tristi, raccapriccianti, oserei dire, beh, c'è una situazione amministrativa paurosa. Abbiamo un sindaco non sindaco, un'amministrazione paralizzata dal punto di vista amministrativo, un sindaco che ha zerato la giunta e che da 15 giorni, 20 giorni, 15 giorni circa, noi non abbiamo più assessori con l'attività amministrativa paralizzata, con un sindaco che ha perso la maggioranza, non ha più la maggioranza. Ecco perché dico un sindaco non sindaco. Il sindaco è quel che resta di questa maggioranza raccogliticcia, tirano a campare con il solo scopo di mantenere il proprio posto, duri finché duri, come si suol dire. È una città malata, malata. I tarantini non meritano questo, non meritiamo questo. Io e il collega Massimo Battista, collega consigliere comunale e amico Massimo Battista, consigliere di una città per cambiare Taranto, vogliamo disegnare una Taranto diversa. Vogliamo spazzare via questa classe politica che ha saputo solo fare danni. Siamo distanti dal centro-destra e dal centro-sinistra. Vogliamo costruire una realtà trasversale ai partiti che metta insieme le migliori intelligenze, le migliori professionalità. Dobbiamo spazzare via, dobbiamo fare piazza pulita rispetto a questa classe politica. Dobbiamo riaggiustare, risanare la macchina amministrativa, anche nelle varie direzioni. Beh, quello che stiamo facendo è quello che faremo. Tante denunce anche da parte nostra, tante esposti, augurandoci che la magistratura, come ha fatto per altri casi, anche per questi, intervenga. Intervenga quanto prima. Bene, che dire? Una città malata. Taranto è una città malata. Però è una realtà moribonda, non morta. L'unico sistema è spazzare via, lo ripeto, questa classe politica. L'unico rimedio. Altre cure non ce ne sono. Noi vogliamo salvare Taranto, vogliamo ridare ai cittadini la dignità di essere tali, cittadini non sudditi di tanta sporcizia. Grazie.